All'interno dello storico Palazzo Carli a Sillico di Pieve Fosciana sarà possibile visitare fino al prossimo 16 agosto la mostra Arte al Plurale giunta all'undicesima edizione. La mostra è curata da Lodovico Gerut e propone opere di cinque artisti di altissimo livello Maurizia Cardoni, Riccardo Benvenuti, Franco Pegonzi, Tito Mucci e Alberto Bongini. L'evento è organizzato dalla locale associazione Polis Sillico e si avvale del patrocinio del comune di Pieve Fosciana e rappresenta un esempio di come anche in un piccolo centro montano si possano realizzare iniziative di alto livello culturale e artistico. Io credo che questo Sillico sia una sorta di isola felice anche per quanto riguarda l'arte perché qui ormai da qualche anno si tiene questa collettiva Arte al plurale che ora è arrivata all'undicesima edizione che unisce veramente dei pittori, degli scultori professionisti e professionali molto seri. Gli artisti vengono volentieri a disporre a Palazzo Carli in quanto nel corso degli anni si è creato un rapporto che va anche oltre quello prettamente artistico. La mostra è assolutamente da vedere anche perché propone cinque stili artistici molto differenti, dalle armonie di Pegonzi alla ricerca pittorica di Tito Mucci, oltre alle straordinarie opere di Maurizia Cardoni che ci conduce in mondi dove la lucchesità si fonde con la tradizione in una visione pittorica assolutamente gustosa. In mostra anche tante opere di Alberto Bongini e poi le meravigliose donne di Riccardo Benvenuti. Ero venuto la prima volta per vedere il posto, ero rimasto entusiasmato perché un paese così tenuto bene, messo in una maniera particolare mi ha emozionato.